Rosalinda ha testimoniato sul suo profilo Sociali Cambiamenti che sta attuando nella sua vita. La giovane ragazza ha raccontato di essere riuscita a trovare una nuova casa dove potersi sistemare a Milano, dopo che in questo periodo si è appoggiata a casa del suo fidanzato Andrea Zenga. Rosalinda ha ammesso che in questi anni ha sempre vissuto in condivisione con altre persone a causa dei prezzi folli per l'affitto di un appartamento a Milano. Adesso, però, le cose sembrano essere cambiare e Rosalinda può permettersi di vivere in un appartamento tutto per sé. Avevo bisogno di trovare il mio spazio aveva ammesso la cannavo sui social svelando poi che pur separandosi dal suo amato Andrea, continueranno comunque a stare insieme e che vivranno in entrambe le case. Faremo un po' da lui e un po' da mi ammetteva Rosalinda parlando di Andrea. Sembra che quello annunciato sia vero, visto che proprio Rosalinda, poco fa ha postato sui social idee per l'outfit di stasera mostrandosi con un abiti differenti, uniti a una didascalia. Prima serata in casa di Rosina.